Sarà una maratona di eventi culturali lunga una sera, quella che si terrà sabato 28 gennaio a partire dalle ore 20, al Centro Culturale Polivalente Michele Abbate. E appunto è a capo la manifestazione promossa dall'Associazione Culturale Anzichitanza e dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, grazie alla collaborazione di numerosi artisti e altre realtà associative, quali Camurria, Genius Eloce Architettura, la Riserva Naturale Lago Sfondato, la Rete degli Studenti Medi e il Circolo Arci Out. Un augurio a vivere un anno ricco di eventi e avventure da condividere tra associazioni e cittadini. A condurre la serata Donatello Polizzi, affiancato dagli Ottoni Sound. Ancora una volta vogliamo dare il nostro contributo alla città, ancora una volta abbiamo coinvolto più persone possibili, associazioni possibili, artisti possibili, per ricominciare da questo punto e a capo. Quale migliore occasione per andare a realizzare al Centro Culturale Michele Abbate, un centro di accoglienza per l'arte, anche per l'arte, quindi da lì noi vogliamo dare il nostro e invitiamo a tutte le persone a dare il loro punto a capo, il loro punto di vista. Di fatto abbiamo invitato moltissime associazioni nissene che spiegheranno i loro progetti e con cui si spera di iniziare un percorso lavorativo e creativo per questo 2017. Una manifestazione che punta a valorizzare la creatività e a portare nuova linfa vitale in città, che è stata sposata dall'amministrazione comunale. L'amministrazione ha deciso di sposare questa manifestazione, ma l'amministrazione ha intenzione di appunto sostenere tutte quelle che saranno delle manifestazioni che avranno come punto principale appunto un coinvolgimento del mondo giovanile. In un momento in cui i giovani purtroppo li ritroviamo lontani dagli enti locali. In particolar modo l'assessorato alle politiche giovanile ha intenzione di sostenere appunto tutte queste iniziative, ovviamente iniziative valide che coinvolgono il maggior numero di persone possibili. Noi già da due anni abbiamo realizzato diverse manifestazioni, piazza a colori, strada da foglie in feste, e adesso abbiamo avuto finalmente riscontro da parte dell'amministrazione, cosa che troviamo giusta anche perché è giusto che ci sia un investimento sul territorio e sulle manifestazioni che noi molto modestamente crediamo di poter far bene, di portare un po' di persone, di far conoscere il locale, di realizzare dei momenti magari non di alta cultura ma magari popolari, nazional popolare, ma sicuramente momenti di aggregazione, momenti di arte, momenti positivi e noi ne abbiamo veramente bisogno in questa città. Quindi vi aspettiamo giorno 28, ingresso gratuito, dalle 20 in poi, punto e a capo. Und a capo, punto e a capo.